Nel 1953 il papà Giuseppe convoca nel suo ufficio i figli Filippo, Gianfranco, Pietro e Maria Angela e dice ragazzi la guerra è finita e dobbiamo cercare un'altra attività da poter raffiancare a quella che già facciamo nel campo dell'edilizia. Io ho pensato, disse papà Giuseppe, che sicuramente il mercato ha bisogno di muoversi, vediamo quindi l'opportunità di orientarci su questo tipo di nuova realtà. Fa una valutazione nel vario settore dell'automobili e si accorge che a Legnano manca la rappresentanza dell'Alfa Romeo. Allora cosa fa? Non fa altro che cercare un territorio valido per costruirci un'azienda dedicata all'automobile e in circa 1500 metri quadri trova questo terreno, costruisce uno stabilimento, costruisce un capannone che deve essere utilizzato per riparare e vendere automobili col marchio Alfa Romeo. Nel 1955 viene inaugurato così il Garage Castello, una realtà all'avanguardia nel territorio, attrezzata con macchinari modernissimi e con personale altamente specializzato. 1990 è un atto importante perché arriva in azienda Roberto, appena laureato, decide di continuare l'attività affiancandosi a papà Pietro. Una storia importante, a Roberto viene affidata la gestione della Fratelli Cozzi. Siamo certi di avere messo a Fratelli Cozzi azienda storica del territorio che con i suoi 65 anni garantirà a Roberto la possibilità di vantare una storia veramente importante. Beh, è chiaro che un'azienda strutturata come la nostra, da tanto tempo sul territorio, ha un grandissimo vantaggio. Il grandissimo vantaggio è quello di avere nei nostri clienti la memoria storica di tutti i prodotti che sono arrivati sul mercato. Ma anche qui una grandissima evoluzione è l'evoluzione quella della rete che ha portato innovazioni in tutti i mercati, in tutti i segmenti, in tutti i mondi di lavoro. Ad oggi serviamo clienti in tutta Italia e in tutta Europa perché grazie alla rete siamo diventati globali. Il mercato europeo ormai è un mercato a portata di mano e addirittura anche la consegna viene fatta a domicilio. Questo perché è un modo nuovo di affrontare tutto quello che sta arrivando. Sul green ormai se ne parla tutti i giorni. Noi questo argomento l'abbiamo affrontato dieci anni fa. Siamo un'azienda che produce energia attraverso i propri pannelli solari. Ci autoalimentiamo nel senso che consumiamo quello che produciamo, anzi quello che produciamo avanza e lo rimettiamo sul mercato. Quindi Fratelli Cozzi è da dieci anni un'azienda green al 100% e nell'automotive siamo arrivati oggi a pensare che il presente è green anche per quello che circola per le strade.